Mi chiamo Maria Rosaria De Muro, ho 68 anni, vengo da Mara Caragolis attualmente, ma sono nata a Cagliari. Ho fatto l'intervento per avere i denti fissi in 24 ore, il 21 luglio del 2021. Prima dell'intervento, purtroppo vivevo una situazione non piacevole, essendomi venuta una piorrea che ha praticamente distrutto la mia dentatura. I denti si muovevano, facevano dolore, dunque non potevo masticare più agevolmente come prima. Io avevo la mia professoressa di francese che si chiamava Boero. Cercando impianti e denti fissi, mi colpì il nome in Facebook Boero, chissà perché. Un viso simpatico, oltre alle testimonianze che venivano prodotte da chi l'aveva già fatto. Mi è piaciuto, è stata l'ispirazione giusta, perché poi tutto quello che ho letto e le risposte immediate anche che ho ricevuto, ma sono poi prontamente venuta e in una mattinata ho deciso di fare l'intervento. Grazie al supporto anche economico che la Boero offre. Io ho deciso la mattina stessa che sono venuta a parlare con Giulietta. Durante l'intervento avevo intorno un'equip che mi ha confortato e non fatto sentire il dolore. Il giorno dopo l'intervento, entro 24 ore, ho avuto i denti fissi. Per cui sono stata esattamente 24 ore. Qualcuno non crede, ma è così realmente. Lo posso testimoniare. Mi è piaciuto tutto, la sistemazione dei locali, la vostra gentilezza, le operichature usate durante l'intervento che hanno permesso di non soffrire assolutamente come normalmente si soffre. Prima era dolorosa anche la pulizia dei denti. Dunque, aver fatto un intervento senza sentir dolore ed essere uscita dopo 24 ore con i denti e poter masticare subito, parlare e non sentire più fastidi e dolori. Mi ha soddisfatto. Dopo l'intervento, praticamente ho provato, siccome io amo anche le lingue e le parlo, ho iniziato a parlare e non avere difficoltà a fare le varie pronunce. E questo mi ha soddisfatto. E infatti ho detto, sembra di avere i miei denti. Perché quella era una parte che mi interessava molto. Parlare in pubblico per me è una delle cose che faccio. E avere difficoltà a pronunciare le varie consonanti e vocali sarebbe stato un problema. Poi, ovviamente, masticare, mangiare tutto, non avere desideri di lasciare un cibo perché non lo puoi masticare o perché ti si infila nei denti e crea dolore. Tutto questo è stato la cosa più piacevole avendo fatto l'intervento. L'equipe e il personale dello studio è stupendo. È una vera e propria famiglia. Chi entra qui viene accolto con cura, garbo, attenzione e toglie qualsiasi dubbio e perplessità di trovarsi a disagio. Io tranquillamente consiglierei Boero a chi ha problemi gravi e sicuramente la Boero risolve tutti questi gravi problemi. Io ho personalmente anche già consigliato a qualcuno di venire a la Boero. Anche a chi ha un inizio di situazione di rischio di peggioramento, consiglio a la Boero che ovviamente prendendo in esame la situazione trova le soluzioni. Grazie a tutto lo staff e un ringraziamento particolare a Giulietta e al dottor Boero.